bello a tutti ragazzi sono lollo genna in questo nuovissimo video su gta andiamo a fare il video contest in collaborazione con il modder fulmine mods per vincere un account moddato su gta 5 online questo account è fatto davvero bene perché fulmine è un modder già da molto tempo e adesso vi dirò i requisiti diciamo che questo contest è come uno speciale 1500 iscritti anche se penso che quando caricherò non sarò ancora arrivato 1500 iscritti però vabbè iniziamo subito con i requisiti che allora iscriversi al mio canale bisogna essere iscritti al mio canale e essere iscritti anche al canale di fulmine mods dove vi lascerò il link del suo canale in descrizione poi lasciare like al mio video cioè al video del contest attivare la campanella delle notifiche dei due canali sia del canale di fulmine sia di quello del mio e intanto vi sto facendo vedere come attivare le notifiche sia da telefono che da computer poi è molto importante anche condividere il video su altre piattaforme poi ci tenevo a dirvi anche che il contest è per tutte le console tranne Xbox 360 quindi Xbox One, PS3, PS4 e PC nei commenti per partecipare dovete scrivere partecipo più la console quindi una di quelle che vi ho detto poco fa è molto importante per partecipare non bisogna scrivere più di un commento quindi se volete scrivere grande lollo non scrivetelo perché poi non varrà nel contest io conto solo un commento e con la scritta partecipo più la console quindi non scrivete più di un commento poi un altro requisito si trova in descrizione cioè seguire su Instagram me e il modder fulmine e anche seguire su Facebook e lasciare like alla sua pagina da modder sempre fulmine che ho trovato in descrizione l'estrazione sarà penso ai 1600 iscritti e se arrivano troppo presto ma non penso anche ai 1700 o se no ad un certo numero di settimane farò l'estrazione voglio che più gente possibile guardi questo video e quindi buona fortuna cercate di vincere l'estrazione sarà fatta a PC lo registrerò con il solito programma per i contest quindi niente spero che il video vi sia piaciuto e noi ci rivediamo al prossimo video bella ragazzi